Il giorno dopo che l'assessore regionale alla sanità Paolo Monferrino ha annunciato a Lanci che reperirà le risorse dedicate al sociale, grazie anche a Italia e la sanità, il consigliere regionale dell'Italia dei Valori Luigi Cursio lancia la sua battaglia contro gli sprechi nel comparto sanitario. Fatti i suoi conti, Cursio è convinto che il grande spreco, come lui lo definisce, della sanità piemontese sia da ricercare nei quasi 300 milioni di euro all'anno buttati non da ospedali o altri enti sanitari ma dagli stessi cittadini che comprano troppe medicine che o non servono o scadono prima del loro utilizzo. Cursio ha calcolato che ogni famiglia piemontese abbia in casa circa 200 euro di farmaci inutili o scaduti. I due terzi di questa cifra, 130 euro, arrivano direttamente dalle casse della regione. Il grande spreco, dice Cursio, è calcolato proprio moltiplicando questi 130 euro per i quasi 2 milioni di famiglie piemontesi. Sicuramente dovremmo cambiare il nostro approccio anche nel chiedere il farmaco perché per esempio se noi andassimo a vedere nei nostri personali armadietti dove custodiamo i farmaci, faremo delle scoperte che apparentemente potrebbero essere irrisorie. Però se in ogni famiglia, come più statistiche affermano, troviamo 200 e più euro di farmaci che sono scaduti o non utilizzati, voi capite bene che 200 euro moltiplicati per 1,9 milioni di famiglie piemontesi, arriviamo a una cifra notevolmente consistente. Cursio ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione per far comprendere a cittadini, medici, farmacisti e case farmaceutiche la gravità dello spreco, soprattutto in un momento in cui la sanità sta vivendo pesanti tagli. Per conoscere date e orari dei banchetti informativi è possibile consultare il sito www.luigicursio.it